Nuova aggressione in ospedale a Foggia, le ultime due in meno di 24 ore. In Regione Puglia, consiglieri in protesta contro l'insediamento dell'impianto a gas per il trattamento dei rifiuti a San Nicandro. Torna il tradizionale appuntamento con la disfida di Barletta e il prossimo fine settimana la rievocazione. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'informazione di Antenna Sud con la pagina dedicata alle province di Barletta e Foggia. Partiamo con quello che sta accadendo negli ospedali riuniti del capologo Dauno, corsie che si trasformano in trincea. Continuano infatti le aggressioni al personale sanitario che in pochi giorni è stato tre volte bersaglio delle violenze di pazienti e loro parenti. Le ultime due aggressioni si sono verificate e pensate in meno di 24 ore. Con l'università c'è stata una proposta di adesso valutare il prima possibile un esperto, un manager della sicurezza, come avviene negli aeroporti o negli stadi, eccetera, che possa adesso iniziare a fare una valutazione più attenta e più specifica di quelle che sono le misure che dobbiamo mettere in campo in questa struttura così grande per evitare che poi si creino quelle situazioni. Una figura che possa essere di controllo e gestione nei luoghi di assembramento dell'ospedale per garantire maggiore ordine e sicurezza nei luoghi di cura. Un vero e proprio manager della sicurezza che sarà supportato da più personale di vigilanza. Si tratta del principale provvedimento messo in campo dal Policlinico Riuniti di Foggia, comunicato nel corso di una conferenza stampa, a seguito dei gravissimi episodi di violenza contro il personale sanitario verificatisi nel nosocomio del capologo Dauno. Quattro aggressioni in tre giorni, le ultime due in meno di 24 ore. A questo si unisce l'accorato appello del direttore generale dell'ospedale rivolto a tutti i cittadini. La violenza non è mai ammissibile e rischiamo le dimissioni di massa del personale medico. Ovviamente questo non vuole essere, diciamo, noi non vogliamo creare un carcere, un secondo carcere a Foggia, vogliamo e ne aumentare questo distacco tra operatori sanitari e cittadini, però vogliamo creare, diciamo, cercare di limitare la confusione perché all'interno della confusione poi queste situazioni fanno presto, diciamo, ad alimentarsi e a verificarsi. Per cui l'appello mio è fate attenzione a tutti quelli che vengono a pronto soccorso perché nel momento in cui dovessimo avere delle dimissioni di massa noi rischieremmo di chiudere tutto l'ospedale, non solo il pronto soccorso. Questa cosa non deve accadere, quindi abbiate rispetto di chi lavora, che lavora soprattutto in condizioni difficili ed è un lavoro complicato, un lavoro rischioso e consentitemi di dire non ben pagato, soprattutto al pronto soccorso. Quindi questo è l'appello mio, la violenza non si giustifica, non è la soluzione dei problemi e non va mai giustificata. E nella notte, appena trascorsa, i carabinieri della compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato il responsabile di un'altra aggressione nei confronti del personale medico del Policlinico Riuniti, un 18enne, verosimilmente, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, si è recato al pronto soccorso in stato confusionale per essere assistito e dopo aver ricevuto le prime cure, ha prima sferato un pugno contro un infermiere e poi ha proseguito la sua corsa lungo i correidoi per colpire con uno schiaffo un secondo infermiere. Immediato l'intervento della pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri, in attesa dell'udienza di convalida, il soggetto si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Foggia. Ed è necessario potenziare i controlli e lavorare sinergicamente con tutti gli attori coinvolti che potrebbero evitare che si verifichino ancora aggressione al personale sanitario. E questo è il progetto, sono queste le parole della prefettura, del prefetto di Bari dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dei giorni scorsi. Non basta potenziare i controlli ma bisognerebbe lavorare di sinergia con tutti gli attori coinvolti e aggressione al personale sanitario dopo i tre casi. In pochi giorni ai riuniti di Foggia, anche nel Varese, il livello di attenzione resta alto e questo lo dimostra il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in prefettura la scorsa settimana. A fare il punto della situazione il prefetto del capologo Francesco Russo che spiega come sia necessaria una comunione di intenti con ASL, regione e ordini professionali di medici e degli infermieri proprio per cercare di far cambiare la mentalità sulla professione sanitaria. È importante fare un lavoro di squadra anche in questo caso perché è chiaro che fare un solo intervento o pensare di risolverli tutto con il potenziamento delle forze di polizia non può arrivare a raggiungere totalmente. Purtroppo il problema di fondo è che anche lì assistiamo ad una mentalità che è completamente sbagliata, quella di prendersela poi con l'operatore sanitario. Per il prefetto anche la riorganizzazione della medicina sul territorio faciliterebbe il controllo dello stesso da parte delle forze di polizia con le quali la prefettura ha già individuato soluzioni. In collaborazione anche da un lato con la regione e dall'altro lato con l'Ordine dei Medici, con il Presidente Anelli, un po' alla volta le stiamo sviluppando insomma. Poi purtroppo la cronica un po' ci incalza ma noi cerchiamo di dare comunque delle risposte. Vi posso garantire, ma questo l'ho verificato, che le forze di polizia sono molto presenti, attente e se anche tempestivamente avvisate intervengono con tempestività. E adesso la sparatoria venuta a Trani in pieno centro si profila il metodo mafioso. Ai nostri microfoni intanto interviene il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che parla dopo la riunione in prefettura. Saranno potenziati i controlli e annuncia per non disperdere il lavoro fatto negli ultimi mesi. Tutta l'attività investigativa porterà probabilmente ad successivi arresti. Le indagini sulla sparatoria avvenuta all'alba di domenica in pieno centro a Trani sono tutt'altro che concluse. Non è bastato l'arresto del 25enne che ha premuto il grilletto per mettere a posto i tasselli di un episodio che non ha nulla a che vedere con la devianza minorile. Non è un fatto che riguarda la movida, è un fatto criminale, avvenuto tra criminali, da parte delle forze dell'ordine c'è assolutamente chiarezza in quello che è accaduto e anche i motivi per cui è accaduto. Quindi mi sento anche su questo assolutamente di tranquillizzare la cittadinanza. Si sarebbe dunque in presenza di un conflitto fra bande per posizionarsi meglio sul territorio e allora avere agito in piazza fra la gente a volto scoperto renderebbe l'idea del fatto che il responsabile volesse fare pesare il proprio rango criminale. Gli arresti eseguiti negli ultimi mesi sul territorio avrebbero portato dunque ad azioni criminali nel preciso intento di organizzare un nuovo assetto tra clan. Cercando di garantire ancora di più la sicurezza in città perché appunto sarebbe un peccato che si torni indietro dopo che invece sono stati raggiunti dei buoni risultati. Nelle scorse ore intanto è tornato a riunirsi il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al Palazzo della Prefettura della BAT per fare il punto della situazione e adottare eventuali misure di contrasto alla criminalità. Quello che ho fortemente chiesto e in questo ho trovato assolutamente la massima apertura e disponibilità da parte del Prefetto è in questo momento una intensificazione dei controlli e del presidio sul territorio da parte di tutte le forze dell'Ordine, in particolare nella città di Trani. Proprio per non disperdere il grande lavoro che è stato fatto in tutti questi mesi che ha portato a una riduzione di tutti i reati nella città. Agenti della Municipale aggrediti da un venditore ambulante a Molfetta, la Polizia Locale si era avvicinata per un controllo a due soggetti di nazionalità straniera ai quali avrebbero posto resistenza e si sarebbero scagliati contro i due vigili urbani in servizio. I due uomini sono stati denunciati e sono ora ricercati. Un controllo commerciale come tanti, un pattugliamento di normale routine nei giorni di festa che finisce in rissa tra ambulanti e polizia locale a Molfetta, sta facendo molto discutere in merito al rischio che quotidianamente incorrono gli agenti di polizia. Una pattuglia a piedi del corpo molfettese, nell'ambito dei controlli fra le bancarelle allestite lungo la banchina San Domenico, si è avvicinata a due ambulanti per una normale verifica. Di fronte al fatto che questa merce potesse essere contraffatta, la polizia locale ha dovuto procedere al sequestro. Questo non è stato visto di buon occhio da parte di queste persone e quindi di conseguenza hanno aggredito la polizia locale che ha dovuto necessariamente difendersi ma ha avuto la peggio purtroppo. L'impegno della polizia locale si è inoltre concentrato sulla verifica dell'osservanza del divieto di detenzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio. Questo con l'unico scopo di tutelare il cittadino che deve guardare alle forze di polizia con maggiore fiducia, ha spiegato l'assessore alla polizia locale. Servizi di controllo sul nostro territorio vengono effettuati sistematicamente e quotidianamente. Questo, come dicevo, perché ogni cittadino deve vivere la propria città in sicurezza. E adesso focus sulla vicenda impianto a gas per il trattamento dei rifiuti a San Nicandro. I consiglieri regionali di opposizione in protesta contro l'insediamento di questo impianto Ecolif lamentano gravi rischi per la salute ai cittadini e per la vocazione agricola del centro del Varese. Si tiene in Regione dopo il via libera dalla città metropolitana. San Nicandro ha già dato, quindi non può assolutamente accettare che un'altra azienda di questo tipo si possa insediare a San Nicandro. Dobbiamo tenere presente che stiamo parlando dello smaltimento di 60.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Chiedono l'aiuto della Regione Puglia ma non escludono altre forme di mobilitazione dopo il sit-in delle scorse ore. I consiglieri di opposizione del Comune di San Nicandro fanno quadrato per impedire l'insediamento dell'impianto di trattamento rifiuti Ecolif nel territorio del centro del Varese. Il Comune di San Nicandro ha già detto di no dal punto di vista urbanistico. Questo non è bastato e quindi la conferenza dei servizi della città metropolitana ha dato parere favorevole a questo impianto. Non sappiamo il perché, non sappiamo cosa può superare e perché abbiano superato questo parere negativo ma noi siamo qui appunto per chiedere e manifestare tutti insieme politicamente quindi il supporto di tutti i cittadini per dire di no a un impianto che la comunità di San Nicandrese non vuole. Non vuole per tanti motivi, non vuole perché vogliamo tutelare l'olio che sarà vergine di oliva di San Nicandro perché questa è la matrice principale della nostra cultura e della nostra storia cittadina. La struttura tecnica del Comune ha già ribadito il suo no e stesso parere raccontano sarebbe arrivato dall'ARPA, l'Agenzia della Regione per la Protezione Ambientale. La città metropolitana invece avrebbe tirato dritto e anche la richiesta di un consiglio comunale monotematico per un referendum popolare sarebbe rimasta inascoltata. Perde anche il valore dei terreni agricoli che sono intorno e quindi noi stiamo anche facendo un referendum popolare per dire no a questo impianto. E c'è fermento nel quartiere Stadio di Trani, quartiere separato dal resto della città da un passaggio a livello la cui soppressione viene annunciata ma rinviata da anni. Sentiamo i residenti. E' un piccolo muro di Berlino che divide in due la città di Trani. Il passaggio a livello come ogni giorno si chiude bloccando i cittadini del quartiere Stadio in fiduciosa attesa che il treno passi in fretta ma a volte si attende anche il passaggio di due o tre mezzi. Critici i residenti della zona relativamente ai continui rinvidi di un'opera attesa e più volte annunciata ma mai realizzata. Il sottopassaggio che permetterebbe almeno ai pedoni di poter raggiungere il centro della città senza attese o senza rischi. Alcuni di essi hanno manifestato queste criticità anche durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale tranese. Attesi di un'ora, sbarre che si alzano e il treno non passa per cui c'è una situazione di insicurezza, di pericolosità. Il cittadino da chi va da RFI oppure va dalle istituzioni, cioè dal Consiglio Comunale in poche parole, è un problema che deve essere risolto. E' un intervento che viene fatto essenzialmente da RFI. Noi stiamo aspettando una validazione finale del progetto esecutivo di RFI che ci sta mettendo un poco più di tempo perché evidentemente le questioni da affrontare sono diverse, quindi è meglio affrontarle prima piuttosto che dopo. E siamo in attesa di essere convocati proprio da RFI per la discussione di questo progetto esecutivo finale. Caricare adesso su RFI è troppo semplice, ma il sottovia che ce l'hanno tutte le città e la cosa che da tranese mi fa male è che abbiamo questo primato della limitazione della velocità dei treni per colpa di quel passaggio a livello, 600 km, 606 più 811, poi lo dice un ex ferroviario. Il sottoscritto in qualità di consigliere comunale ha presentato un'interrogazione per conoscere quali sono i tempi, visto che l'inizio dei lavori continua a slittare ogni volta di sei mesi in sei mesi, ad oggi non mi è stata data nessuna risposta. Ex Silva è il ruolo dello Stato nell'azienda, ma anche la crisi dell'automotive a partire dal barese. Le assemblee regionali dei delegati FIOM e CGL aprono l'autunno caldo del lavoro. Partiamo dall'ex Silva, partiamo dal fatto che c'è un bando e noi pensiamo che il governo debba scegliere e decidere di essere parte del capitale e della proprietà per poter indirizzare il piano industriale di rilancio della produzione, ma anche di garanzia occupazionale, di garanzia ambientale, di salute e sicurezza per i cittadini di Taranto. Ci sono il futuro dell'ex Silva di Taranto e il ruolo dello Stato, ma anche la crisi dell'automotive che rischia di travolgere la meccanica a partire dal barese. Lo stato della trattativa è in corso per i rinnovi dei contratti nazionali, l'analisi della situazione industriale, occupazionale e sindacale del paese sono l'occasione per tracciare l'agenda dell'autunno caldo del lavoro. Penso agli investimenti che sono stati fatti sulla parte informatica, sull'ICT, su un'area come quella barese, ma penso anche che contemporaneamente è successo che abbiamo avuto anche delle crisi industriali importanti. Penso a quello che è successo in Marelli, penso a quello che è successo alla Bosch. Prova a farlo la campagna delle assemblee regionali di delegate e delegati organizzata dalla FIOM CGL, partita dal capoluogo all'insegna di parole chiave come dignità, contratti e diritti. Sullo sfondo c'è la crisi del sistema industriale pugliese, automotive in primis su Bari, non dimentichiamoci della siderurgia a Taranto che vive un momento caldissimo perché siamo a ridosso della presentazione delle offerte e poi sullo sfondo c'è anche l'aerospazio che è in chiaro oscuro. Taglio del nastro a Capurso nel barese per casa Santa Barbara. Il bene è confiscato alla criminalità organizzata locale che è stato affidato al comune per trasformarlo in una struttura destinata a essere utilizzata per finalità socio-professionali. Guardiamo. Un bene confiscato alla criminalità organizzata che da teatro di attività illecite dopo importanti lavori di riorganizzazione e riqualificazione durati circa un anno si appresta a rinascere come nuovo teatro della legalità grazie alle sinergie messe in campo dal comune di Capurso e dalla regione Puglia. Nasce da qui Casa Santa Barbara, l'immobile sulla provinciale tra Trigiano e Carbonara pronto a diventare luogo di aggregazione sociale e di sviluppo dove giovani e meno giovani in condizioni svantaggiate sulla strada del recupero sociale potranno imparare un lavoro con corsi di formazione e attività professionali proprio come hanno fatto i ragazzi che in occasione dell'inaugurazione della struttura hanno iniziato con le attività di piantumazione di alberi da frutto nell'orto. In questo bene abbiamo l'idea di mettere in piedi dei progetti naturalmente che andranno a occupare i soggetti più svantaggiati della popolazione e quelle attività legate all'agricoltura sociale quindi può essere trasformazione di piccole confetture o preparazione di prodotti come possa essere la salsa quindi legati al nostro territorio. Fino a un anno fa questa era una struttura abbandonata a se stessa perché l'abbiamo avuta nel 2012-2013 era difficile pensare di poterla recuperare grazie a un finanziamento regionale siamo riusciti a fare questo piccolo miracolo per la nostra comunità. È il simbolo della vittoria della società civile sulla mafia ma soprattutto della riaffermazione dei diritti, dei principi di legalità e di giustizia sociale. Meno distanza e più interazione tra aziende e mondo della formazione nasce così il punto e impresa dell'Ateneo del capoluogo a Bari. Tra gli obiettivi sostenere la creazione di spin-off e start-up accademiche e valorizzare i risultati della ricerca. Facilitare l'accesso delle imprese alle infrastrutture e alle competenze dell'università, valorizzare i risultati della ricerca con un occhio al potenziale commerciale e sostenere la creazione di spin-off, start-up accademiche coltivando nuove idee imprenditoriali e per farlo organizzare eventi e iniziative di trasferimento tecnologico e networking, nasce così il punto impresa univa dell'Ateneo del capoluogo intitolato a Daldomoro. È partito nell'escorsiore ma può già contare sullo sviluppo di un prototipo in fase di commercializzazione, lavoratori pubblico-privati e progetti di dottorato e creazione di imprese internazionale. La immagino che l'impresa venga dentro l'università, acquisisca una serie di competenze facendoci domande specifiche rispetto a un know-how che noi possiamo garantire nell'ambito dell'innovazione e posso uscire dalla stessa porta avendo coscienza di poter partecipare a tanti bandi che hanno come voce e codice di entrata proprio la ricaduta dell'innovazione nel territorio. Ci saranno dei colleghi i quali interagendo con tutti gli uffici della Università di Bari faranno una raccolta di tutti i servizi che saranno, che sono loro offribili di modo che chiunque vada a questa sorta di sportello unico nel senso che farà la sintesi, la summa di tutto quello che l'università potrà offrire consentendo anche allo studente innanzitutto una sorta di orientamento in ingresso. Seconda edizione del corso sul management delle imprese turistiche, obiettivo andare incontro a chi lavora nel settore e favorire un potenziamento dei servizi. Al via la seconda edizione del corso in management delle imprese turistiche, strategie, marketing e trasformazione digitale. A riproporla con Fessercenti Puglia e Università di Bari. Lo stesso sarà diviso in quattro moduli con un numero massimo di 15 iscritti. Si parte ad ottobre, fondamentali le nozioni su governo e strategie d'impresa. Le sedi formative saranno decise in base alle iscrizioni pervenute ad essere interessati, gli imprenditori delle attività ricettive e tutti coloro che sono legati alla filiera turistica. Ci siamo trovati a dover affrontare un sovraffollamento turistico. La Puglia in questi ultimi anni è stata oggetto di forte domanda. L'offerta molto spesso non è all'altezza, si è dimostrata molto carente. Credo che quello che possiamo fare noi come organizzazione datoriale è proprio quella di offrire una qualità dell'offerta migliore di quella che c'è stata siena ad oggi. A cominciare proprio dal rapporto personale, interpersonale col turista che viene. In Puglia anche quest'anno i numeri del turismo sono positivi, ma per l'assessore regionale Lopane bisogna andare oltre il concetto di destagionalizzazione. Il 40% delle presenze in Puglia avvengono nei mesi non estivi, quindi credo che dobbiamo cominciare a derubricare il termine destagionalizzazione perché non ci piace e dobbiamo invece continuare a parlare di prodotti turistici perché è il vero elemento su cui si può impostare un'attrattività del territorio che duri in tutti i periodi dell'anno. Credo che la Puglia sia ormai una destinazione pronta anche ad affrontare questo nuovo approccio. La pagina degli eventi, il prossimo fine settimana torna a Barletta il tradizionale appuntamento con la rievocazione storica della disfida. Si parte venerdì 13 settembre. Presentato presso la cantina della sfida è il programma delle celebrazioni per la disfida di Barletta. Dal 13 al 15 settembre le iniziative che rievocheranno l'evento con il culmine previsto domenica con il corteo storico dei figuranti. Lo facciamo tornando il corteo storico, ampliando i fuochi d'artificio che tanto piacciono a bambini ed adulti. Abbiamo dei nuovi spettacoli che si sterranno vicino al castello, ospiti come ogni anno, attori che interpreteranno i personaggi della disfida. Sarà un ricordo di una disfida in attesa del prossimo anno perché l'amministrazione sta lavorando affinché il prossimo anno possa tornare il certame ma in una chiave diversa. Non si svolgerà invece la rievocazione storica del certame cavalleresco. L'obiettivo è quello di riproporlo nell'edizione 2025 con la fondazione della disfida, pronta a prendere piede con il supporto della regione Puglia. Il certame è assente perché quest'anno l'amministrazione ha scelto di destinare parte dei fondi che venivano usati anche per la disfida per coprire alcuni costi imprevisti come l'aumento della Tari. E non solo, ma anche perché stiamo rivalutando l'idea del certame affinché si possa svolgere un certame che sia più inclusivo, possa essere più accessibile a molti più cittadini e anche in una chiave di una forma diversa che non sia solo l'epico scontro. Costo dell'evento pari a 231 mila euro, di cui 150 mila euro della regione Puglia, 34 mila provenienti dalle casse comunali e 47 mila euro dai precedenti fondi stanziati per il G7 della filosofia. Da numerosi turisti anche dal resto d'Europa, già in città per il weekend della disfida. Ci auguriamo che l'edizione 2024 soddisfi le aspettative, insomma sulla positiva scia di quella del 2023, non escludendo collaborazioni anche per le edizioni future. Stasera a Bari, nel Teatro Abeliano, l'evento che celebra i 140 anni di relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Corea del Sud. Equilibrio dinamico a Bari per lo spettacolo con i Corea Ballet Stars, un importante appuntamento per la compagnia fasanese martedì sera nel Teatro Abeliano, alle 21 per un evento speciale che celebrerà i 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, alla presenza di importanti istituzioni politiche. Equilibrio dinamico è l'unica realtà riconosciuta dalla regione Puglia come compagnia di produzione Under 35 e ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura nel 2021. Una compagnia sempre più multiculturale, capace di attrarre giovani artisti da tutto il mondo in terra di Puglia, ospitando annualmente danzatori di caratura internazionale. La danza è un linguaggio universale. L'appuntamento di domani all'Abeliano si inserisce in una strategia più ampia di rapporti tra la nostra città e la Corea. Infatti già nel 2022 abbiamo ospitato qui la Corea Week. Intendiamo continuare in questo rapporto, costruendo un gemellaggio tra la città di Bari e un'altra città della Corea e facendo sì che le arti, la danza, che sono un linguaggio universale, siano proprio lo strumento per creare ponti. Bari da sempre è una città rivolta d'Oriente e vogliamo continuare facendo sì che proprio in un rapporto di gemellaggio si possa portare qui la cultura coreana, ma soprattutto si possa portare le realtà italiane e baresi all'interno della Corea. Ancora gli eventi, una seduta del Consiglio Comunale con ospiti provenienti da diverse parti del mondo per celebrare il Molfetta Day, il giorno in cui i Molfettesi emigrati per cercare fortuna in altri continenti tornano nella città d'origine per incontrarsi e raccontarsi le proprie esperienze. Non tutti parlano la stessa lingua, alcuni si scambiano sguardi ed accennano un sorriso come per dire felice di conoscerti. Una piccola delegazione ha scelto di indossare una maglia per spiegare più facilmente la propria provenienza. Hanno colori di capelli diversi, indossano scarpe differenti, eppure sono molto simili. Originariamente sono tutti di Molfetta. Siedono nella sala consigliare di Palazzo Giovane per celebrare il Molfetta Day, manifestazione in favore dei concittadini residenti all'estero. L'idea nasce proprio da loro, dall'associazione Molfettesi nel mondo. 70 anni fa i primi Molfettesi che emigrarono e quindi raccoglievano i propri bagagli, questi valigioni enormi, emigravano in altre grandi nazioni e quindi iniziavano lì a lavorare. Quando alcuni sono ritornati hanno deciso di mettere su un'associazione appunto per non dimenticare tutti i sacrifici che avevano fatto. Sono arrivati in Puglia per rivedere la città di origine, per visitarla, vedere quanto e come è cambiata, a riscoprire i colori e i profumi della terra da dove sono partiti i loro genitori, ognuno con la propria storia. Ho vissuto 40 anni in Venezuela, dopodiché per la situazione economica, un po' per la politica, per la nostalgia, abbiamo deciso mia madre e io di rientrare a Molfetta. I genitori di concita in Venezuela per cercare fortuna, Giacomo in Australia per inseguire la donna che sarebbe diventata la sua compagna di vita, sua moglie. Lei è partita per l'Australia a 17 anni con la famiglia, ho dovuto andare in Australia e dopo 39 giorni mi sono sposato. Continuano a venire qui a festeggiare non soltanto la nostra Madonna dei Martiri, ma a ricordare tutto ciò che i loro genitori facevano in passato. Era questo il nostro ultimo servizio, potete continuare a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito www.antennasud.com Ora allinea i colleghi per le notizie dei territori di Taranto, Brindisi e Lecce. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud, più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo. Grazie per la visione!